Io, passiamo subito, per non allungare, io, della mia famiglia, purtroppo ho dovuto obbedire quello che dicono loro. Loro, io faccio l'impresario e volevo sposarmi un'artista, dato che sono un impresario famoso. I miei hanno detto no, dice, se tu ti sposi una cantante, noi non veniamo al matrimonio. E dicevano di trovarmi una casalinga. La casalinga, dice, è di casa, la casalinga ti tiene pronto il letto, la casa, quando torni ti tiene pronto da mangiare. La cantante è sempre in giro, tu ti devi prendere una casalinga. Allora, comincio la storia della casalinga. Un mio amico, Saverio, disse Sì, domani io faccio il compleanno. Abbiamo organizzato una piccola festa, una festecciola in famiglia. Vuoi venire? Quindi mi ha invitato di andare a casa. Ci ha detto sì, con piacere. Perché con Saverio avevamo un'amicizia proprio di famiglia. E io sono andato. Allora hanno preparato, non dentro la casa, fuori, nel giordino, una tavola lunga, lunga, lunga. Allora ci siamo seduti tutti a mangiare. Abbiamo cominciato l'antepasto. Allora lui aveva tre sorelle. A questo punto erano seduti la mamma, il padre, le sorelle, altri parenti. Il tavolo era pieno. Ci siamo messi a mangiare. Allora, una delle sorelle di Saverio punta gli occhi su di me. Mangiava e guardava. Mangiava e guardava. E mi faceva un sorriso molto dolce, sorridente. Era una ragazza stupenda, bellissima, affascinante, degli occhi verdi. Una ragazza di quelle donne formose, belle, una carneggione bianca come la schiuma del latte. Ebbene, mi ha stregato, mi ha scioccato. Con quel suo sorriso, lei mi sorrideva e poi mi ha fatto l'occhiello. Ah, ho detto io, allora qua c'è qualcosa di serio. Allora, cosicché ho cercato di seguirla perché andava alla parrucchiera, andava fuori a fare la spesa, finché l'ho fermata. Allora, dico, posso parlare una parolina con te? Lei, le gentili, disse anche due, tu non sei quello che sei stato invitato da Saverio a casa mia? Esatto. E tu non sei quello che mi hai fatto l'occhialino? Ah, ah, e che vuol dire che ti ho fatto l'occhialino? Che c'è di male? No di male, per me di bene. Perché andiamo ai fatti. Sì, io sono sbriativo. Allora, mi hai scioccato, mi hai stregato. Da quel giorno di quella festa di tuo fratello Saverio mi sono innamorato. Ah, 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 dici si è innamorato. E come fai ad innamorarti di una donna che la conosce soltanto da un ricevimento di festa? Sì, mi sono innamorato a prima vista. Mi hai scioccato. Tu? Sei fidanzata? No, sono libera. E allora io e te facciamo un fidanzamento. Eh, mio padre, mio padre, mio padre, tuo padre parlo io con tuo padre, anzi parlo con tuo fratello Saverio. E allora non ti ho chiesto il tuo nome. Come ti chiami? Io mi chiamo Rosita. Rosita, da questo momento sei impegnata. Lo dici tu che sono impegnata. Se voglio io, tu vuoi. Si vede agli occhi che sei innamorata anche. Allora, a questo punto abbiamo fatto questo discorso con Rosita. Un giorno andavamo a caccia con suo fratello, io sono permessante del fucile, e andavo a caccia con Saverio. E allora, dopo, Saverio, non riesco a trovare le parole, ti devo dire una cosa importante. Saverio e io siamo molti amici, allora dice, e che è questa cosa importante? Saverio, pensala come vuoi, eh, non ti offendere, io sono una persona seria. Tu hai una sorella bella, Rosita, e ci siamo innamorati. Io da lei, e lei da me. Ora, attocca a te e a tuo padre, tua madre, per fare questo fidanzamento. Senti come lo dici così facile. Saverio, come te lo devo dire? Lo deve sapere, tu sei il migliore amico mio. Hai tre sorelle belle, mi sono innamorato di Rosita, mi ha scioccato, mi ha stregato. Cosa devo dire? Allora io e te diventeremo cognati? Se sarà destino, sì, dico. Va bene, adesso portiamo questo discorso a mio padre, a mia madre, e poi vediamo. Allora così, Saverio, chiama sua sorella. Rosita, dimmi un po'. Eh, Vito Gargano, mi ha detto che vi siete innamorati, è vero? Saverio, se devo dirti la verità, è vero. Sì, mi sono innamorata di quel giorno che l'hai invitato alla festa. Va bene, volevo sapere questo. Non ti sto dicendo niente di male. Adesso lo diciamo a mamma e papà. Allora hanno fatto una riunione, la mamma, il padre, Rosita e sorelle, hanno detto, vi ricordate quello che l'ha invitato Saveria a mangiare qui? Sì, si è innamorata di Rosita e Rosita si è innamorata da lui. Il padre risponde. Eh, figliole, figliole, correte troppo in fretta. Una volta sola che l'hai conosciuto ti sei innamorata, Rosita. Sì, papà, è l'uomo per me quello, fatto su mia misura. Va bene, figliole, contenta tu, contenta tutti. La mamma dice, ha visto, sembra un bel giovane. E allora, fatelo venire qua. Domani a mezzogiorno. Lo invitiamo a pranzo, a questo Vito Gargano. Allora, cosicché, Saverio mi telefona e dice, vedi che abbiamo parlato, sono contenti. Vieni a pranzo a mezzogiorno. Io a mezzogiorno vado, mi hanno ospitato, abbiamo mangiato, i dolci, il pranzo, un pranzo meraviglioso. Dopo il padre disse, abbiamo finito da mangiare, ma credo che adesso è l'ora di parlare di cose molto, molto serie. E io sono di poche parole. E' inutile che la giriamo a Tarantella. Io parlo prima con Rosita. Rosita, tu ti sei innamorato di Vito Gargano? Sì, papà. Sì, è la verità. E tu, Vito Gargano? Ti sei innamorata di mia figlia Rosita? Sì. Con tutto il cuore. Se posso essere degno di entrare in questa degna famiglia. Allora, andiamo al dunque, perché i cordi lunghi si fanno sarpenti. Entro un mese vi dovete sposare. Va bene, io sono pronto. Allora, si è festeggiato, abbiamo mangiato. Contente tutti, contente Rosita può essere seduta vicino a me. Allora, il padre mi risponde, il padre di Rosita, Vito Gargano, attenzione. Una cosa mi ero dimenticato di farti presente. Perché? Che entra qui, metti il piede qui, devo uscire con la promessa del matrimonio. Non credere che vieni qui per divertirti come figlia Rosita, da porti qua, da porti là. Io vado alla legge antica. Mi sono spiegato, Vito Gargano. Molto bene. Allora, così io alla sera andavo ogni tanto. Il padre non mi faceva sedere vicino alla figlia. E ci guardavamo a distanza. Il tempo è passato. È venuto il matrimonio. Taglio perché il racconto. È venuto il matrimonio e si è fatta la grande. Un matrimonio tipo, come devo dire, mafioso. Dentro il giordino si ballava. Il padre faceva il mastro del ballo. Invitava tutti a ballare. ha poi ambetato a me. Ambetato. Poi dice adesso, largo, devono ballare gli esposi. Ha detto io, mamma mia, non so ballare bene, come faccio? E io mi portava a lei il valzoli, poi il tango. Abbiamo ballato. Insomma, un matrimonio bellissimo che hanno fatto anche i fuochi d'artificio, orchestre, cantante. Il padre stava bene dei soldi. Ha fatto un matrimonio alla grande. Così che con Rosita ci siamo sposati. Quando è finito il matrimonio, alle quattro, fino alle quattro si ballava, si danzava, un festeggiamento da una parte all'altra. Poi, bene, il matrimonio è finito. Adesso gli sposi vanno a casa. Il padre aveva dato un appartamento molto bello, lussuoso alla figlia. Io mi ero comprato immobili, vestiti, queste cose, che erano d'accordo così. Poi siamo andati a casa con Rosita. Rosita, finalmente sei mia marito e tu sei mia moglie. E adesso? Adesso cosa facciamo? Quelle che fanno tutti gli sposi. Dopo si sposano, cosa fanno? Ve lascio immaginare perché nel racconto io sono molto educato molto. Ve lascio solo immaginare. Abbiamo passato una notte d'amore bellissima. Ha cominciato la vita, marito e moglie. I miei genitori erano contenti perché ho sposato una casalinga, 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 e è stato come hanno voluto loro. Allora, adesso comincia la storia andare più forte, drammatica. Dopo ci siamo sposati. Allora si sposa la sorella di Rosita e siamo stati tutti invitati al matrimonio. Rosita, io, ci ho portato anche il regalo alla sorella di Rosita e si è cominciato questo matrimonio. Allora Rosita, mia moglie, perché oramai era mia moglie, era seduta al banco che si mangiava il gelato. Dell'altra parte c'era uno scanosciuto. Non so chi era, non so loro dicono che non è stato invitato questa persona. Allora questo sconosciuto inquadrava a mia moglie Rosita, la guardava, la guardava. Mia moglie Rosita non so se l'ha guardato. Qui ci sono alcuni punti interrogativi di sospetti Rosita a un certo punto va al bagno il bagno era un bagno grande quelle di lusso è andata al bagno. Questo sconosciuto va anche lui al bagno. Chiude la porta è violenta Rosita la spoglia nuda. Ma non spogliare alla dolce ci ha strappato riciceno mutante gonne l'ha messo nuda e l'ha violentata. Dopodiché vedendo che Rosita non rientra al posto dove era qualcuno ci ha appensato dice Rosita è mezz'ora che manca di qui che è successo? Perché quella l'ha vista che andava al bagno va al bagno e trova Rosita a terra svenuta nuda con riciceno strappato mutantini strappati tutti graffiata di sangue allora si è messo allarme questa ragazza che è andata a vedere correte correte che è successo? Non lo so c'è Rosita sdraiata forse è morta dove? Nel bagno allora si è messo a correre io ho sentito questo discorso quando arrivo lì vedo Rosita nuda nuda completamente sdraiata a terra tocco per vedere se risperava allora chiudo la porta dico qui non potete che è nuda per cortesia andate da là ho chiuso la porta e ci ho detto andate a casa di Rosita e portate un abito sai qualcosa perché si deve vestire perché gli abiti l'ha tutti strappati allora ho capito io che si trattava di violenza violenza carnale portano il vestito io la vesto gli metto gli andamenti gli metto tutto e poi la alzo perché era soltanto svenuta e dico che è successo non mi ricordo adesso di dirti Vito so soltanto che uno sconosciuto mi ha seguito nel bagno ha chiuso la porta e mi è violentata mi è violentata e io ci ho chiesto fai che vuoi di me ma non ammazzarmi perché tirava il cortello abusa di me fai quello che voglio ma non mi ammazzare allora lui il cortello l'ha messo in tasca e l'ha violentata due volte e così Rosita si è salvata perché ci ha detto di non ammazzarla che gli fa fare ancora sesso e quello lì dopo se n'è andato e lei è rimasta lì massacrata a questo punto è passata una settimana io andavo a casa dei suoi genitori e dico le persone che avete invitato al matrimonio che sono sono scritte ve le ricordate perché uno di quelli ha violentato mia moglie che è vostra figlia Rosita dice sì abbiamo guardato questo non c'è nell'elenco qualche sconosciuto che si è filtrato nel matrimonio senza essere invitato e così che io c'ho Rosita violentata e non sappiamo niente eh allora è passata una settimana io usavo andare al bar c'è un bar il bar Cremona si chiamava e in quelle bar ogni tanto ci andavo io vado lì la ragazza al tavolo lì al banco signor Vito quale onore siete venuti sì mi fai il caffè mi fai il caffè e mentre faceva il caffè c'era uno sconosciuto con altri amici lì pieni di persone lì che scherzavano e faceva questo ah 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 l'hai violentata allora sì mi sono divertito era molto bella bella l'ho violentata io quando ho sentito queste parole mi sono fermato ad ascoltare e l'ho lasciato parlare ah 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 ma sai com'era bella oh aveva una carneggione bianca e poi se la vedevi nuda bella e poi sai cosa mi ha detto e se non mi ammazzare che io ti lascio fare sesso quanto vuoi queste cose io era a conoscenza di alcune cose allora quando ho capito che era lui e non era un uomo era un giovanotto poteva avere 30 anni 25 30 mi avvicino ti sei divertito allora con quella signora vero sì era bella ha una carneggione bianca ma lei a un certo punto gli piaceva pure non non gridava più mi ha detto io ti lascio fare sesso ma non mi ammazzare io ho fatto sesso e non l'ho ammazzata brava complimenti lo sai chi era quella signora no ecco lo posso sapere chi era una sconosciuta lì quella era mia moglie bastardo tua moglie allora sei cornuto allora ti ho fatto cornuto amici miei sentite che il marito questo cornuto era bella sai facevamo quando l'ho presa faceva gridava ma a un certo punto gli piaceva stava questo è un cornuto sai sei un marito cornuto ora allora dissi adesso ho questo coltello perché poi questo disonesto si era ubriagato con la punta del coltello sul fronte adesso ti faccio le silibre ti scrivo cornuto vedi con questa punta del cortello con l'altra ha tirato anche la pistola questo bastardo stai fermo se no ti sparo perché adesso ti devo scrivere con la punta del cortello sulle sulla fronte cornuto così quando esci nel paese vedono che sei cornuto e metto anche la mia firma che ti ho fatto io cornuto con quella punta del cortello mi la punta sulla fronte e comincia piano piano a stringere e comincia a uscire un po' di sangue a quel punto mi è riuscito a prendere la mano della pistola ce l'ho impugnata lui aveva la pistola in mano però io l'ho ferrato del braccio perché poi io sono così fatto quando divento selvaggio mi viene una forza potente di strangolare allora a quel punto quella pistola con la mia forza la giro la giro e la volto sulla sua persona verso il petto parte un colpo di pistola parte un colpo e lui si accascia libera cortello pistola tutto e si è accasciato adesso questa per me è una legittima difesa ci ho detto a tutti quelli che erano lì presenti anche la ragazza ci ho detto io non voglio che diti falso ma dovete testimoniare la giustizia perché questa è una legittima difesa non dovete dire altro le cose come sono andate solo questo vi chiedo non ha risposto nessuno dire no e sì la ragazza del bar che era la patrona disse io ti farò il testimone che è stato lui il colpo della pistola è partito senza ammazzare che volevi tu ammazzarlo grazie allora cosa faccio prendo dici il cadavere te lo porto via sì lo tiro fuori avevo la macchina e lo metto sulla macchina lo metto lì e vado a casa di mie sociele mie mogli i sorelle di mia mogli il padre mi hanno visto spaventato Vito ma che è successo non ti vedo giusto che è successo venite fuori vi devo far vedere una cosa vengono fuori ecco Rosita questo è colui che ti ha violentata vedi è morto oh Vito cosa hai fatto adesso ti arrestano certo che mi arrestano mi devono arrestare anzi mi costituisco ecco io adesso il cadavere lo porto io alla caserma dei carabinieri e mi farò arrestare i testimoni devono dire come sono date le cose io non sono qui a raccontarvi ora tutti i particolari devo andare in caserma Rosita mi guarda da una parte hai fatto bene ma da una parte no adesso mi lascia sola spero non per molto Rosita perché mi ha aggredito lui mi voleva scrivere sulla fronte cornuto con la punta del cortello del cortello poi ha tirato la pistola voleva spararmi io ho preso il braccio per non farmi sparare certamente la giro verso di lui il polso è partito il colpo per me è legittima difesa se volete mettermi gli avvocati ne voglio due avvocati allora così Vito aspetto a dirti una parola si mette i miei bracci per colpa mia per colpa mia vai a scontare la tua pena che io ti voglio bene e ti aspetterò casta e pure tutti piangevano di quello che è successo le sorelle di Rosita la mamma il padre il fratello Saverio però non avevo torto io di quello che è successo vado avanti alla caserma dei carabinieri e lì piazzo la macchina davanti alla caserma dei carabinieri entro e in c'era il piantone dico devo parlare con il marasciallo dici se è una cosa urgente urgentissima perché il marasciallo è occupato è urgentissima per cortesia dici marasciallo c'è un signore che vuole parlare con voi e dici che è urgente falle entrare quando mi vedi il marasciallo mi conosceva mi voleva bene Vito Gargano e tu cosa fai qui marasciallo perché sei venuto marasciallo sono venuto per farmi arrestare da voi e perché mai ti devo arrestare tu sei un bravo ragazzo ero un bravo ragazzo non più ho ammazzato un uomo hai ammazzato un uomo e perché cosa ti ha fatto ha violentato mia moglie e poi dentro al bar mi voleva scrivere sulla fronte cornuto mi spotteva mi prendeva in giro di fronte a tutti e poi è partito un colpo e la pistola ci sono i testimoni Vito Gargano ma queste cose le deve dire al giurge i magistrati io ti devo consegnare ma io ti volevo bene marasciallo non perdiamo tempo arrestatemi dai marasciallo marasciallo mi volete arrestare? ecco marasciallo vi do i polsi arrestatemi avanti mettetevi le manette marasciallo mettetevi le manette perché il carcere non si mangia la gente no marasciallo marasciallo ero cornuto e ha fatto cornuto quello bastardo non ci credete che ho ammazzato un uomo marasciallo allora adesso vi dico tutto ve lo volevo dire dopo davanti alla caserma c'è lui morto dentro la macchina l'ho portato fino a qui vadano a vedere era il cadavere sulla macchina io sono venuto a costituire marasciallo 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 arrestatemi io non ho paura del carcere quante volte ve lo devo dire il carcere non si mangia la gente marasciallo io avevo paura se fosse cornuto ma non ho del carcere e poi ho ucciso per legittima difesa marasciallo non mi volete arrestare perché mi volete bene però ho ammazzato quell'uomo marasciallo marasciallo voi credete che io mi so pentito no lo farei ancora il carcere non si mangia la gente marasciallo voi sapete che sono un uomo d'onore di rispetto non poteva finire diversamente così che marasciallo mi mette le manette e mi porta al carcere duro da una stanza da otto metri quadrati una stanza fredda e scura una stanza sporca coperte sporche l'anzola sporca e la stanza piena di pulci e quella stanza devo scontare la mia pena un giorno vengono a trovarmi gli avvocati e io ci ho detto avvocato allora la mia è una legittima difesa dito gargano purtroppo la gente è falsa lì ti hanno detto che ti fanno il testimoni due sole sono che ti fanno il testimoni la ragazza del bar è una vecchietta gli altri non ti fanno dicono che hai torto tu che l'hai ammazzato tu e ti portano omicidio predimentato omicidio volontario adesso vediamo se questi due testimoni ti possono aiutare avvocato è stata legittima difesa sì lo so lo so e se non vogliono fare i testimoni dobbiamo vedere altre situazioni di quello che possiamo fare va bene avvocato aspetterò non l'ingiustizia la giustizia voglio quello che è successo allora cosicché l'avvocato se n'è andato e poi un giorno viene Rosita a trovarmi Rosita fanno il colloquio anche se mi avevano dato i 441 bis però l'hanno fatto entrare vedo Rosita bella bianca rossa sorredente come se fosse che io non avevo fatto niente per lei era passato tutto viene a dirmi ciao Vito ciao Rosita allora Rosita dimmi ti do una bella notizia Rosita io io ti do una bella notizia ora io credevo che mi dava una notizia per la scarcerazione per qualcosa di buono del mio processo ti do una bella notizia e che aspetta a dirlo che notizia mi deve dare c'erano pure i guardie che mi ha fatto fare brutta figura pure c'erano le guardie pure lì perché quando si fa il colloquio come sapete stanno pure i santinelli conoscete la sai è una bella cosa aspetto un figlio sono incinta sono incinta Vito non sei contento sei incinta e come sei incinta Rosita con me con me no sì con te no però però che cosa sai quello sono rimasto incinta con quella persona che è che è morto quello che mi è violentato e come non hai pensato fare l'aborto o prenderti una pinnola per non essere incinta mi porti il ricordo di quello che ti ha violentato che sei incinta con quello morto non è così non è così Rosita sì e non è bello il bambino che colpa già o la bambina buttana vattene esci non voglio vederte non venire a trovarmi più in carcere credevo che mi porti notizie del mio processo per la legittima difesa e invece vieni qua a dirmi che è incinta con quello che è morto disgraziato vattene vattene va via non ti voglio vedere vai sparisce ancora là stai e guardia ci ho detto guardia per cortesia portatela via dai non vuole conversare dai vieni via e io ci ho portato una bella notizia che aspetto un bambino e lui mi caccia così dai cammina cosicché se n'è andata veniva a dirmi non del mio processo l'avvocato e cose che è incinta ma se fosse incinta con me e va bene ero contento incinta con quella che l'ha violentata è rimasta incinta con quella a questo punto è andata a raccontare a Saverio suo fratello che era un amice e dice mi ha scacciata via del carcere e dice che non ci ha detto che sono incinta i sorelli suoi l'hanno rimproverata Rosita quello non è figlio suoi tu dovevi provvedere fare l'aborto oppure la pinola e non essere incinta e che colpa c'ha la bambina va bene poi l'hanno lasciata stare perché la ragionava in quel modo allora venne il giorno e del processo allora hanno chiamato Rosita hanno chiamato dei testimoni allora ha cominciato il pubblico ministero il pubblico ministero ha cominciato signore signor Presidente signore della Corte guardateli in faccia l'assassino che ha ammazzato quell'uomo guardatelo e sapete perché la moglie che è qui presente Rosita ti chiami la moglie l'ha stuzzicato l'ha portato nel bagno ha fatto finta che sia violentata è lei che l'ha portata e lui l'ha ammazzato signore della Corte questo un uomo violento assassino io la mia idea e la mia cosa che quest'uomo signor Presidente viene condannato all'arcastro perché la moglie è stata a portare dentro al bagno il suo amante e lì hanno fatto una funzione scenica che la violentava e invece è stata lei a portarlo nel bagno signor Presidente e poi il marito per la vergogna l'ha ammazzato questa è la verità per queste cose io signor Presidente definisco la mia l'arcastro anzi ci vorrebbero due arcastro l'arcastro ci dovete dare io ho finito Presidente vuole parlare l'avvocato di Rosita signor Presidente sì quello che ha detto il pubblico ministero è vergognoso l'arcastro l'arcastro ci ha violentata la moglie e poi dentro al bar rideva l'ha trovato che parlava con gli amici mi sono divertito mi sono divertito era bella diceva così il morto signor Presidente e poi ha preso il cortello per scrivere sulla sua fronte cornuto e con la punta del cortello ancora c'è i segnali in mio assistito correva sangue e l'altra mano teneva la pistola il mio assistito prende in pugno il braccio come si sono girati come si hanno fatto è partito un colpo di pistola non l'ha sparato lui è partito un colpo a un posto mortale signor Presidente questa è la verità io vi dico signor Presidente che è innocente innocente non è il fatto la tragedia è successa ma non voluta da lui per questo io chiedo la legittima difesa che gli è dati dove sono i testimoni viene la patrona del bar la ragazza giura di dire la verità e nient'altro che la verità lo giuro come sono andate le cose è venuta a prendere il caffè ci ho fatto il caffè e poi c'era quel signore con tante persone amici e si è messo a ridere ho violentato una donna ho violentato era bella era qua era là lui non sapeva chi l'ha violentata allora ha ascoltato le parole e si è avvicinato e ci ha detto lo sa che sono io no chi sei tu io sono il marito di quella che stai dicendo che l'hai violentata allora ti ho fatto cornuto allora ti ho fatto cornuto cornuto era bella tua moglie mi sono divertito sai in prima non voleva fare l'amore perché realmente la violentavo ma poi non ha parlato più non ha parlato più quando dice lui con una mano voleva scriverci sul fronte cornuto l'altra mano lo puntò con la pistola e allora il signore Vito Gargano ha preso la mano del polso come se sono mosse da una parte all'altra a partire il colpo della pistola questa è la verità signor procedente va bene firma qui allora l'altro testimonio non ce ne sono una vecchietta c'è sì signore giudice signor procedente una vecchietta io sono mamma di figli ma sono vecchia e io sono al mondo della verità mi dovete credere in quello che vi dico quell'uomo che non c'è più io non l'ho detto mai mi aveva adentato la mia figlia pura a 13 anni e perché non avete andato dei carabinieri perché avevo paura che disse che non ci ammazza se per questo ora io ero là che faccio le pulizie al bar e come vi ha detto la patrona del bar è partito il colpo questo per me è legittima difesa vi sto dicendo la verità signor procedente va bene va bene mento a punte scriveva il segretario allora poi risponde l'avvocato contrario signor presidente è morto un uomo ammazzato per mano di un assassino eccolo lì il signor Vito Gargano è un assassino l'ha ammazzato non è vero che è partito il colpo ha tirato lui il grilletto ha sparato e ora cerca di cavarsela con la legittima difesa è un assassino condannatelo perché se no questo ammazza altre persone questo vi dico io va bene ora ci riuniamo in camera di consiglio ma per quanto riguarda la sentenza non uscirò ancora perché devo sentire altri testimoni va bene signore e signore da questo momento l'aula è chiusa così che i giudici si è riterato tutti si sono riterati gli avvocati tutte cose e poi che vuole sentire altri testimoni il tempo è trascorso quando quando io intanto sono passati tanti mesi e questa libertà non si vedeva per niente allora sono passati tanti mesi e partorita la rosita ha fatto una bella una bella bambina poi praticamente non lo so che mi tirava contro questo processo lo archiviavano non lo archiviavano per che sono innocenti lo mettevano all'ultimo non mi facevano mai questa santenza sono passati tanti mesi e anni e io dentro dentro in quella cella fredda e scura intanto è nata questa bambina poi dopo tanto tempo gli avvocati vengono a trovarmi dice allora dito ti porto una buona notizia che il giudice ti ha tenuto la legge di me difesa dice ora ci sono un po' di giorni per la scarcerazione e dico tutti questi anni che ho fatto le devo pagare ringrazia che esce a libertà che poteva aver largastolo cosa vuoi di più vuoi vedere gli anni che hai fatto quelli sono passati adesso esce a libertà va bene allora cosicché mi hanno scarcerato mi hanno scarcerato e ho tornato in quella famiglia sono tornato in quella famiglia con Rosita non andavamo d'accordo c'era la bambina che si avvicinava e mi diceva tu non sei mio papà vero era molto bella che capelli lunghi gli occhi celesti sembrava un'attrice natricetta tu non sei mio papà no io non sono tuo papà io gli rispondevo con voce aggressiva ma non tanto per la bambina ma per dispetto di Rosita con Rosita io non sono andata a casa mi ha affittato una casa e allora a casa andavo della mamma di Rosita dei suoi sorelli e allora fregantavo la casa sennò che cosa c'è nella vita ho preso una cotta della sorella di Rosita lei puri allora così siamo messe lì la mamma ha capito e va bene tu a Rosita si fa una famiglia e tu ti fai una famiglia con sua sorella con Mara si chiamava Mara con Mara non ci siamo sposati me l'ho preso come compagna da questa compagna è nata un'altra bambina taglio perché il romanzo è lungo è nata un'altra bambina bella bella più che mai bella era anche l'altra la figlia di Rosita che non era mia figlia era figlia di quello che è morto e io continuavo con la sorella di Rosita sono che è cresciuta taglio perché il romanzo è troppo lungo è cresciuta anche lei io alla mia compagna la sorella di Rosita gli portavo tutto le bambole tutto ci portava a quella no perché non era mia figlia e allora quella mi faceva la ragazzina perché porta le bambole alla mia compagna e a me no io non rispondevo ma Rosita piangeva e comprava il bene alla figlia di Mara che era la mia compagna era la sorella di Rosita ci compravo tutto 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 e quella ragazzina piangeva e tu sei suo papà ci porta tutto io papà non ce l'ho mio papà non c'è non mi porta niente nessuno e io zitto zitto ma nel cuore avevo avevo un tormento e io per dispetto di Rosita perché in fondo quella era figlia di quello morto che ha violentato Rosita questa figlia di Mara sorella di Rosita era la mia bambina perché è nata del mio unioni della mia compagna allora la mamma di Rosita mi disse senti Vito Gargano sei bravo a mia figlia Mara la vuoi bene tutto alla bambina la vuoi bene ma non puoi comportarti in quel modo a quella bambina non ci porta mai niente signora bella mia socia voi siete mia socia quella è figlia di quello che è morto che l'ha violentata non è mia figlia ma che vuol dire ci porti i regali a quelli a quell'altro e a quella bambina piange dici che non ha papà signora se mi volete so così se non mi volete non vengo più a trovarvi qui va bene allora Mara disse senti mia madre non ha torto sei la nostra bambina porta tutto e quella ragazzina soffre soffre non ha papà non c'è papà io ho scontato galera per colpa di suo papà perché tua sorella non ha abortito perché non si è preso la pinnola per non uscire incinta allora sicuramente io ero unito con lei non con te allora ancora io ricarico dei regali e di tutto a mia figlia la bambina nostra regale regale e quella ragazzina poi la mamma vede ha preso un regalo ha detto portato a lui io non ce l'ho preso no togliela non è per lei io ero un carnefici un bastardo che mi portavo così per fare arrabbiare le rosite a quel punto io questa ha cominciato l'altra Mara a rinforzarmi per la bambina per la cosa ho preso prendo l'aereo che avevo amici in Spagna e me la spiro me la scappo per la Spagna ho abbandonato la bambina che era mia ho abbandonato la compagna e me la sono andata alla Spagna alla Spagna mi hanno ospitato amici miei ci ho raccontato tutta la scarogna che è passato e allora e allora stavo lì io a un certo punto passato tanto tempo e disse stasera c'è un concerto canta la più cantante famosa spagnola andiamo a vedere il concerto ah io faccio l'impresario io voglio vedere questa spagnola ho sentito parlare sì alla Spagna ma fuori della Spagna non è andato mai a cantare siamo andati a vedere questo concerto questo concerto la gente e tutte le parti della Spagna era era un artista quotata che prendeva 60.000 euro a serata per dire che cantante era a questo punto io sendo come impresario ma non ho detto niente a nessuno quando ha finito i cantari una serata spettacolari una marea di gente ma in cielo e finimondo si è messo a fare autografi questa cantante bella più che mai ma una donna straordinaria una donna eccellente una donna formosa una donna accattivante ma bella bella allora ci ho detto a quelli del comitato signori io non posso avere uno autografo anche io però vorrei solo salutarla di persona quando mi fate entrare nel suo camerino se le vuole si se vuole e dite che soltanto voglio stringerci la mano ecco avere questo sogno di questa cantante famosa a un certo punto quando ha finito l'autografo non finiva mai è andata in Cammarino Soi per cambiarsi il comitato ci ha detto senta io c'è un signore che non me lo toglie dai piedi dice che vuole soltanto salutarti di persona lo posso fare è un autografo dai fallo che io ci ho promesso che cerco di convincerti e va bene mi devo sbrigare però sono entrato la vedo e complimenti ci ho detto lei è un'artista straordinaria una cantante meravigliosa e soprattutto bella grazie dei suoi complimenti che vuoi l'autografo mi scrivi l'autografo hai altro da dirmi sì io ho una cosa da dirle non sono uno delle telespettatorie io anche io ho un nome famoso io sono Vito Gargano che cosa Vito Gargano l'improsario famoso non ci credo ci dovete credere sono io in carne e ossa e perché non me l'hai detto prima tu sei quello nominato dei concerti i nomi grossi che fai che dicono che l'impresario Vito Gargano non fa lavorare a nessuno Vito Gargano è un nome d'arte tu sei Benito Viola sì ah ora me lo fai tu un autogra un autogra a me no tu sei una grande artista te sei una grande artista e allora mi trovo qui per una mia scarogna in Italia ci ho raccontato la storia di Rosita della sorella di Rosita di Mara la storia dei bambini senti adesso che sei qui io ti offro un lavoro perché c'è un grande grande e sopra grande impresario io so tutta la tua storia sono stata fortunata questa sera signore raccomitato mi avete fatto entrare una persona che è famosa questa è famosa più di me questo è quell'impresario che dicono in tutte l'Italia tutti che allora ho fatto bene certo certo allora disse io non ti ammollo più come dire non mi diamoci del tu tra artisti e impresari diciamo del tu allora perché non mi ammollo perché tu adesso mi fai l'impresario a me tu devi fare i maneggiamenti a me adesso perché vedi io sono una famosa artista ma ho cantato sempre alla Spagna fuori della Spagna non c'è stato un'impresario che mi ha fatto uscire fuori della Spagna perché sono sciacquacquam sono piccoli impresari e io le butto fuori allora accetti fai il maneggiamento a me adesso io lo farei volentieri però sai io quasi che volevo ritirarmi riposarmi dopo 40 anni di carriera no non ti ammollo ti ho cattorato allora io ho cattorato anche a te ecco sono contento se parla così allora questa cantante spagnola mi ha raccontato la sua storia la sua cosa poi disse ho avuto il piacere di canoscere il grande il grande ormai scomparso Claudio Villa è venuto qui e ci abbiamo regalato una canzone che canzone Granata perché Granata non è sua no Granata lui è venuto a vedere un concerto l'ho conosciuto un grandioso artista voce così non ce ne sono mai e allora dopo ha cantato una mia collega un'altra cantante ha cantato Granata e il grande Claudio disse no non è per te questa canzone questo che vi sto raccontando è vero non è per te questa canzone è per me per la mia voce Granata è una voce è una canzone che ci vuole fiato fiato e allora era fatta per Claudio Villa questa me la catturo io ha detto Claudio Villa me la porto in Italia e allora se la portate in Italia è diventato il suo cavallo di battaglia Granata anche io pensavo che Granata era scritta da Claudio Villa invece no e quindi me l'ha raccontato questa cantante spagnola e dice una voce stupenda poi quando l'ha cantata Claudio Villa io l'ho ascoltata con quella voce una voce stupenda un mito un leggendario Claudio Villa allora così continuiamo la storia di questa cantante mi ho messo a fare manager a lei però l'ho fatta no per la Spagna per portarla fuori della Spagna perché era nominata ma non uscita mai fuori della Spagna cantava sempre nella sua grande patria nella sua città allora l'ho cominciata a portare in Italia grandi successi in Italia ci ho fatto fare tanti concerti poi l'ho portata in Argentina insomma l'ho fatta già in America l'ho fatta fare disse finalmente a mani tuoi ho conosciuto tutte le altre nazioni e allora adesso che abbiamo fatto due anni di concerti girando e adesso conosco la tua storia mi l'hai raccontata bella ma brutta io voglio venire che mi porti in Italia adesso dici siamo nell'inverno voglio fare un reposo da venti giorni e poi e poi concerti le faremo sempre con te sempre con me sì ti pago cosa vuoi io ti pago va bene era il mese di ottobre lei i soldi ne ha tante tanti e se andiamo in Italia ci siamo vestiti e ho detto come siamo partiti in Italia siamo andati in albergo perché poi io non è che posso raccontare perché sono nel racconto educato e non voglio però durante tutti questi due anni certamente abbiamo fatto anche l'amore a questo punto siamo andati in Italia e mi porta a certi punti e se voglio conoscere la tua ecche se compagna e la tua ecche se moglie però prima dobbiamo andare a una parte mi porta nel centro della città e allora quest'appartamento quanto costa e io ho visto e dico ma che cosa sta facendo dice ha detto la cifra lo compro io ci ha fatto l'assegno e cosa e ha comprato un appartamento a cinque piani questo appartamento quanto costa quello ci ha detto il prezzo e compra l'altro appartamento a quattro piani mi pare bene bene ci ha detto e perché hai comprato questo appartamento pensavo che mi compra per me lo so io perché adesso portami dei come impresario tu sei il mio manager portami da tua moglie ma io non ci voglio andare portami da tua moglie siamo andati della socia l'altra sorella Mara che era quando la vedono perché l'hanno vista su internet non lo so su che cosa ma lei è la cantante famosa sì ci ha detto in carne e ossa e per mia fortuna ho incontrato il grande mito impresario Vito Gargano e sono qui da voi volevo conoscervi sì dici ma so tutta la storia perché mi ha raccontato tutto lui non c'è bisogno che mi dite niente voglio vedere le bambine se adesso vengono sono andate alla scuola i bambini sono arrivati tra loro due si volevano bene perché la bambina che era mia figlia il regale che io gli dava a lei lei gli dava a quella che non aveva papà e allora dice adesso facciamo da mangiare con piacere vogliamo passare una bella serata qui abbiamo mangiato poi e Rosita e la mia ex compagna ci sono i letti per dormire ecco disse a spagnolo disse qui dobbiamo io e te dormire separati non dobbiamo dire che siamo anche oltre che sei i miei maneggeri e che andiamo a letto pure allora hanno fatto due stanze io dormivo nella stanza e lei fingeva dormiva all'altra quando è venuto il giorno adesso andiamo a farci una passeggiata mi ha detto la cantante spagnola dice tu si chiamava Siria tu dici portami in quelli palazzi che io ho comprato ora ho capito ce l'ha comprata per i bambini va bene ero contento siamo andati c'era Rosita c'era a sorelle Rosita Mara la mamma il padre tutti vi piace questo palazzo è bello quello non sapevano di queste cose hanno detto perché ve lo volete affettare questo è quell'appartamento e due ho comprato l'avete comprati e perché perché tu non hai il papà vero no mio papà non c'è quell'appartamento è tuo e quello dell'altra bambina la figlia di Vito Gargano ho voluto farvi questo regalo sono rimasti sono rimasti tutti sbalorditi la mamma di Rosita il padre i fratelli e perché ci fate questo regalo perché apparteniti a Vito Gargano e io mi ha raccontato la storia lui poverino soffre se si è comportato con la ragazzina in quel modo era per la rabbia per Rosita perché vede Rosita io non voglio mettermi nei vostri panni perché sono fatte le vostre famiglie però quella figlia non è figlia di tuo marito è figlia di quello che è morto tu dovevi abortire o fare per non nascere questa famiglia dice ma io non potevo io non potevo e va bene è nata e va bene ora lui si è comportato male perché non ci faceva i regali alla bambina ce la doveva fare uguale a sua figlia uguale doveva fare però è pentito è pentito allora a questo punto domani prendiamo l'aereo e dobbiamo partire con Cobito perché lui è il mio impresario il mio manager allora così che Rosita era un po' gelosa pure perché dice sicuramente se la fa con con questa cantante allora il giorno dopo ci abbiamo salutato e ancora lei non contenta dei appartamenti fa due assegni uno per la bambina e per i due bambini con queste ve comprate quello che volete ma ci ha fatto non mi ricordo quanto da assegni grossi ora possiamo andare per la per la spagna io ho finito la mia velleggiatura risponde la mamma di Rosita oh signora bella che bella cosa avete fatto che donna bella avete dato a questi bambini due appartamenti soldi sì ma ricordate l'ho fatto per Vito Gargano lo dovete perdonare che lui è pentito di quello che ha fatto all'altro bambino si è messo tutto a piangere Rosita è venuto a abbracciarmi l'altra compagna mi abbracciava l'altra sorella tutti il fratello tutti il padre vai Vito buona fortuna ricordo che te vogliamo bene ecco ha detto Siria la cantante e queste parole volevo sentire ecco voletelo bene quello che è successo è successo è una storia cos'è che siamo partiti giorno dopo a in Spagna io non è che dormivo in camera separata oramai ero diventato il suo compagno di Siria non mi trattava più come manager impresario come il suo compagno allora cosicché ha cominciato aveva tutti virtù belle Siria tutta donna bella bella più che mai formosa bella con i capelli lunghi capelli rossi bella e c'era un difetto che non mi piaceva qual è questo difetto era il difetto dice tu sei un bell'uomo tu sei un bell'uomo allora non possiamo essere tu il mio impresario mi hai fatto conoscere altre città altre nazioni sei bravo però ti voglio vedere diverso Siria diverso in che senso e domani in poi tu devi essere vestito come dico io Siria ma che vuoi dire queste maglioni alla dolce vita non vanno tu sei un bell'uomo deve andare vestito con cravatta camicia i vestiti bletti vanno bene il bianco ti va bene sono così io guarda in Spagna conosco molte persone importanti e non voglio che ti vedano come uno straccioni tu sei un bell'uomo non solo un bell'uomo un impresario famoso Siria mi ha passato un'altra donna che mi ha l'ho lasciata proprio per questo non l'ho lasciata ci siamo lasciati perché lei diceva o così o così il maglione alla dolce vita me le bruciava Siria è bella io ho consentito tutto quello che hai fatto sei una donna straordinaria bella più che mai ma vede queste cose non le posso accettare perché il marchio di Benito Viola sopra come nome l'arte Bito Gargano non me l'ha data o vestire bene la cravatta me l'ho fatta coi vestitini no sporchi voglio dire vecchi io vado alla buona a vestirmi perché io ho costruito una rete televisiva non posso andare a montare che so l'alta frequenza bassa frequenza con la cravattina bianca perché mi sporco la cravatta bianca sa quando me la metto eh quando sono invitato a un matrimonio o al ricevimento allora mi vesto bene ma io che lavoro sempre con i telecameri ma tu non lo sai tu sai soltanto la mia storia come i maneggiamenti io ho costruito cara Siria una rete televisiva con queste mie mani io come cameraman sono i migliori io le telecamere le faccio a pezzi le smonto le monto io faccio tutto a bassa frequenza ho costruito una grande rete televisiva ah non mi hai detto mai che non c'è una rete televisiva sì la migliore la più bella con queste mie mani sì io con queste mie mani ora tu devo andare con la cosa che ha la cravatta non te lo accetto vedi quando cammina alla mia spalla con un'artista famosa non voglio che ti vengano come nostraccioni cerca di capirmi Benny io ti chiamo Benny Benito vuol dire Benny hai capito Benny Siria credo che la nostra strada si va chiudendo perché io non posso accettare io faccio tutto faccio elettricista faccio le cose mi sbrivo tutto da me tutto da me e non posso andare con la cravettina bianca tu mi vuoi vedere con la cravettina bianca ma stupido sciocco tu sai che io ti voglio bene sei un bell'uomo con queste stracci pare brutto Siria se la vuoi così se non la vuoi così ah mi fai anche i ricatti o così o così o non ci lasciamo e credo di sì credo di sì io mi presento da uno procedente della provincia ho dei dei nomi famosi e gli dico questo questo è il mio compagno anzitutto se tu tu devi continuare fare l'impresario a me perché sei famoso non deve dire che io sono la tua compagna personale deve dire soltanto che mi fai da manager che sei il mio impresario non voglio che nessuno sappia la nostra intimità la nostra cosa dico di questo e posso accontentare ma sul vestire no e allora caro bene dobbiamo seguire la nostra strada tu la tua e io la mia perché io non so porto guarda se vuoi stare con me le pantalone le porto io e tu devi fare non da donna ma devi fare hai capito vuoi comandare io mi farei comandare da te ma il vestire io mi vesto come voglio ma qui non devi fare niente non devi giustare antenna televisiva tu sei il mio manager la televisione ce l'hai in Italia a me che mi interessa la televisione a me mi interessa tu come uomo io devo farlo vedere le persone alle amiche mie alle belle ragazze che ti vedono che mi invidi hanno che mi ho scelto Siria è bella abbiamo fatto tanto e non abbiamo concluso niente qualcosa sì siamo andati a letto dimentichiamo un'avventura chiama l'avventura chiama l'avventura va bene io te l'ho detto o prendere o lasciare lasciare bella io mi vesto come voglio non mi faccio comandare nessuno c'ho un marchio famoso e tu lo sai un nome famoso e tu lo sai non l'ho fatto l'abito non fa monico l'ho fatto soltanto chiama le stracci chiama le vestite mali me l'ho fatto da solo così non c'ha cravatta e c'ha camicia bianca come dici tu ah peccato avevi trovato la tua fortuna e io la mia dissi perché in queste due anni mi hai fatto conoscere tante paese fornazioni impresarie qua non valgono tanto perché non sono conosciuti e va bene facciamo finta un'avventura un'avventura però commovente che io me ne vado col cuore straziato perché mi ero affezionato a te anche io Vito ma io voglio che ti vieno vestito come un re allora bella io dovevo partire domani me ne vado stasera perché c'è l'aereo adesso vado prendo l'aereo e ti saluto ti auguro un mondo di beni e tante cose belle e lei grintosa cosa dice ciao buona fortuna grazie per i appartamenti che hai comprati ragazzi eh non preoccuparti ciao ciao così ci siamo lasciati con la spagnola e sono rientrato quando sono rientrato io non è che andavo a casa di Rosita della moglie in quella famiglia non sono andato tanto erano sistemati i due bambini avevano l'appartamento ci ha lasciato soldi mi ha affettato una casa un appartamento vicino al mare e volevo stare solo dimenticare le donne dimenticare il passato perché 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 me ne sono capitate di tutti i colori allora ne ha passate cose belle cose cattive allora dico basta ora basta voglio stare solo al giorno usciavo fuori con amici facevamo la partita alle carte come se fosse io che non ero più famoso era una persona tornata normale come uno qualsiasi con un cittadino dopo tutte quelle cose belle che ho fatto allora alla notte nel letto avevo la fotografia della spagnola che era molto bella e me la mettevo là vicino avevo la fotografia di Rosita la moglie e me la mettevo là vicino avevo la fotografia della compagna tre quattro donne e guardavo tutti i quattro con quattro donne adesso sono solo ma meglio solo che come si dice che ha mal accompagnato a questo punto è trascorso un mese due mesi mi arriva una telefonata arriva una telefonata che era la spagnola ciao bene come va la vita mi sto riposando ora eh oramai il marchio non ce l'hai sei conosciuto puoi venire qui dico vengo da te per che cosa per vestirmi con la cravatta con la camicia bianca e la cravatta puoi venire qua troveremo un accordo dai quando vieni io veramente ero innamorato perché una bella donna per motivi stupidi i vestiri ci siamo lasciati soltanto che lei vuole la cravatta e la camicia bianca e io volevo essere vestito come col maglione alla dolce vita alla cose per queste cretinate di cose ci siamo lasciati se no lei ha fatto del bene una star allora poi sono andato mi accoglie con accoglienza e mi fai scherzo ti vuoi mettere il vestito di nottobrino che ti ho trovato il posto per spazzolare la città mi prenderei in giro mi senti io sono venuto qua per dirmi che cosa vuoi ah 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 eh dissi cosa voglio la tua lontananza mi ha fatto soffrire e che cosa vuoi che mi fai da manager di nuovo di nuovo perché mi è successo era il cielo e calato a terra non mi chiamano più a fare le solate come prima da quando tu te ne sei andato ho perso un po' di successo tu mi fai l'impresario e non voglio di dire che tu sei il mio compagno di vita che sei il mio managgiero il mio empresario stiamo insieme mangiamo insieme facciamo qualche altra cosa eh qualche altra cosa che cosa ti lascio immaginare anzi la facciamo stasera allora lei mi ha chiamato perché il successo non ce l'aveva più come prima il lavoro non c'era più come prima siccome lei è una star che voleva sempre lavorare ho accettato entro non è passato un anno il suo successo ha cominciato a trionfare l'ho portata dappertutto l'ho portata in tutte le nazioni e le godeva disse fa che vuoi della vita tua te lascio libero ma voglio a te vicino e così lei mi ha lasciato vestirmi come voglio e mi lasciava andare dove volevamo mi voleva bene pazza pazza matta mi provocava sempre a fare l'amore e quindi ho passato ho concluso la vita con la spagnola in Italia felici e contenti perché sono stati sistemati i ragazzi e tutti i soldi che ci ha lasciato lei io con lei mi è tornato l'orgoglio il sorriso perché il sorriso mio si era spento quando ero solo e qui finisce la storia che io sono rimasto con la bella spagnola come manager mi accettava dei comitati il mio manager non diceva il mio compagno non voleva e io contenta lei contenta tutti importante che poi erami insieme in tutte le situazioni qui finisce la storia che si concludi in bellezza con la spagnola Rosita sistemata appartamento e così l'altra sorella sistemata non so se poi si hanno trovato il compagno sia Rosita e sia la sua sorella i bambini avevano l'appartamento avevano soldi io con la bella spagnola aggioiva perché è bella bella la spagnola specialmente quando mi portava e ballava in spagnolo qualche volta faceva serate di ballo pure perché è ballarina pure oltre che attrice cantante e quando ballava in spagnolo mi eccitava di più mamma mia mamma mia mi faceva ancora impazzire di più quando danzava la spagna la cosa mi divertivo con lei comunque la conclusione chiudiamo qui Benito Viola e vi saluta come sempre con questo racconto e cosa devo dire vi voglio bene scrivetevi sul mio canale del Benito Viola e sopportatene perché le storie sono belle però sono un po' lunghe e vi posso dare qualche po' di fastidio però alla prossima ciao ciao da Benito Viola